E vlasnova a tutti, Samiri e Samire. Benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi sono qui per la mia night routine. La mia night routine inizia con cambiarmi. Sì, cambiarmi e lavarmi i denti. Aspettate. Ho preso il pigiama, adesso vado in bagno. Eccomi ragazzi, sto andando in bagno. Dovevo fare la mia skin care routine, ma siccome non ho nulla come prodotto, adesso vado sul semplice. Acqua e sapone. Ragazzi, non c'è bisogno per forza di... per ora almeno. Non c'è bisogno che io faccia... oddio mio. Tutte queste skin care... Quindi nulla. Adesso cerco di mettermi anche il deodorante prima di andare a letto, di lavarmi le ascelle e tutto quanto. Per non spuzzare... per non puzzarmi, appunto. E questo è il mio deodorante. Deodorante da Digo 3. Ti... Che odio quando non ci sono i tappi... Allora... Ci sono i tappi? No, non ci sono i tappi. Ma che... Palle... Se non sai dove mettere le cose, mio Dio... Allora... Qua... Già sono stretti di lo... Ok. Forse. Qualcosa abbiamo risolto. Traballa un po'. Allora... Iniziano a abbiarmi... mi tolgo il cardigan sto cardigan è abbastanza pelante come cardigan ok ragazzi ora volevo provarvi questa morning routine come è giusto che si perché vabbè ho finito da poco di fare la cena questo è tutto quello che faccio prima di andare a letto mi sto togliendo la camicia si raga io non sto benissimo con la camicia e niente io ho dei brutti ricordi con la camicia ci vediamo dopo quando mi sarò cambiata del tutto ok ragazzi manca solo una cosa prima di mettermi tutti i maglioni che ho perché si sono molto freddolosa perché non avete ancora capito questo è uno dei miei maglioni aspettate allora uno dei miei maglioni sono questi è e una e una oddio quant'è gelato sta ok ragazzi questo devo dire questo è quello che faccio io mi cambio tipo verso le 8 la 8 di sera perché mi è più comodo sicuramente la mia dolce metà mi avrà già chiamata quindi dovrò una bella aiuto i denti me li devo lavare oddio dovrei fare la cosa allora se questa è una morning cioè basta morning perché non è più morning allora questa è la night routine molto easy semplicemente e vendite con me ce l'abbiamo i denti insieme allora premetto io rivolgerò il microfono verso le mie labbra così almeno sentite allora ok ragazzi prima di tutto mi lavo la faccia perché vabbè anche se non mi lavo tipo faccio veramente schifo io io mi lavo la faccia ok Oggi tra l'altro ho fatto teatro Ma ragazzi, è mi utile, sapete che è il mio blutubber, non è? ok ragazzi andiamo a riporre le cose sporchissime dalle cose sporche i gesti delle cose sporche qui devo scusate per i suoni ma veramente non ce la posso fare verdaderamente no puedo más ok basta non parlo molto perfettamente spagnolo oddio scusate se l'inquadratura è tipo abbastanza storta ma è quello che posso fare allora questa è solo l'inizio della sera sperando spero che proceda benissimo allora entriamo nella lavanderia troviamo tutte le magiche cose sporche mio oddio cado immaginate che ci cado proprio dentro adesso entro in camera e sovano un po' il computer bellissima come questa casa allora ok non faccio niente adesso oddio cado se un campanile so la mia scrivania un campanile sta accendendo sui ok niente adesso la chiamo ciao ragazzi questa è la serata questo è l'inizio della serata e quindi niente sono con le cuffie amore tranquilla e sono in chiamata con la mia dolcissima metà che si imbarazza un po' quando non metto le cuffie e niente raga samiri e samiri no 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 ciao raga mi sa che è ora che io chiuda il video perché sennò la mia dolce metà mi disintegra beh se mi vuoi disintegrare se 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 amore si sente il bip ma comunque non ti si sente sembra che io stessi parlando da sola quindi stai tranquilla vuoi che tolga no scherzo no dai così così saluti nel vlog no dai ragazzi ve lo faccio salutare la prossima volta aspettate aspettate ve lo faccio salutare aspettate che alzo il volume del mio computer ok potreste sentirlo aspettate parla ciao ciao a tutti e a tutti ok va bene sono un po' fuori si ma mica lo sapevo amore e niente sono in chiamata adesso sono qui che ho finito di fare la chiamata adesso sarò in chiamata con i miei amici poi aspetterò la mia dolce metà e sarò un po' in chiamata con lei e vado a letto se vi è piaciuto questo vlogmas spero di sì almeno vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirmi su instagram su samira trattinovassovlog.com trattinovassofficial e fra poco tornerò a postare delle foto sono veramente felice di fare questo tipologio di video delle night routine dei night routine dei morning routine ditemi voi se volete anche la morning routine per me questo periodo è duro a registrarlo perché non ho voglia di fare caos totale però quando riuscirò promesso registrerò la morning routine ciao ciao ciao